Salve, sono Danilo Cosacchi, friggitore del John Ford, e vi presento il mio fritto. Adesso friggiamo il cannolo di pasta kataifi. Andiamo a comporre il piatto con un fondo di gel di bisco. Prendiamo il nostro cannolo di pasta kataifi e lo riempiamo con la ricotta di fuscella. Mettiamo sul nostro cannolo la tartare di gamberi. Concludiamo con la nocciola caramellata sale e pepe. A questo piatto abbiamo abbinato una birra Favort doppio mosto del birrificio dei fratelli Perrella. Grazie.